Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Più che un oggetto del desiderio, il congresso provinciale del PD Irpino sembra un oggetto misterioso. Si fa o non si fa, le tessere arrivano o no per tempo e i soldi spettanti ai circoli saranno accreditati sì o no. Il commissario Davide Ermini oggi ricomparirà in via tagliamento per la consueta visita settimanale. Dalla data della sua nomina al 29 ottobre, giorno fissato per l'assise, saranno trascorse nove settimane e mezzo. Da lui, che è il responsabile dell'organizzazione congressuale, il popolo PD non si aspetta nulla di straordinariamente erotico, ma nemmeno che tutto finisca a seghe mentali. Grazie a tutti. Grazie.